Alcuni porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si strinsero vicini vicini per proteggersi col calore reciproco dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine reciproche. Il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente a stare insieme, si ripetè quell'altro malanno, di modo che venivano sballottati avanti e indietro fra due mali, finché non ebbero trovato una moderata distanza reciproca che rappresentava per loro la migliore posizione. Così, il bisogno di società che scaturisce dal vuoto e dalla monotonia della propria interiorità, spinge gli uomini l'uno verso l'altro. Le loro molteplici repellenti qualità e i loro difetti insopportabili, però, li rispingono di nuovo l'uno lontano dall'altro. La distanza media che essi riescono finalmente a trovare e grazie alla quale è possibile una coesistenza, si trova nella cortesia e nelle buone manieri. A colui che non mantiene quella distanza si dice in Inghilterra keep your distance. Con essa il bisogno del calore reciproco è soddisfatto in modo incompleto, in compenso però non si soffre delle spine altrui. colui però che possiede molto calore interno preferisce rinunciare alla società per non dare né ricevere sensazioni sgradevoli.